La struttura di infrastrutture e trasporti è una scommessa diversa rispetto al quadro organizzativo dei laboratori. Quello dei trasporti e delle infrastrutture in generale è forse la parte più difficile ma anche più problematica del nostro Paese e noi dobbiamo affrontarla in una maniera diversa rispetto al quadro complessivo con cui questo governo e i governi precedenti hanno avviato le procedure. Noi immaginiamo che nel nostro Paese con questo laboratorio riusciremo a imprimere tra i nostri tesserati, da coloro che ci vorranno seguire, l'idea diversa di territorio, territorio facilmente raggiungibile, senza strutture enormi, utilizzando per molti versi tutte le tratte su ferro, su gomma, su acqua che già sono presenti nella nostra bellissima nazione. Questo significa organizzarsi bene nelle nostre regioni, avere dei punti di riferimento fondamentali che possano essere interfaccia per comunicare le criticità del proprio territorio, metterle insieme, assemblarle e far diventare tutto questo una proposta complessiva, la proposta di Italia dei Valori che deve essere in linea con quello che è stato sempre Italia dei Valori, cioè vicino al territorio, vicino alla gente, vicino a coloro che oggi immaginano un Paese diverso.